La raccolta differenziata è una rivoluzione culturale ancora tutta da svolgere a Mazzara. In questi ultimi cinque anni la tariffa rifiuti è aumentata a livelli insostenibili per le famiglie e le imprese mazzaresi. Il nostro obiettivo è quello di raggiungere il 50% di raccolta differenziata entro il 2016 e il 65% entro il 2017, al fine di alleviare i costi della tariffa e rendere un servizio ecosostenibile alla città. Avvieremo immediatamente una bonifica dell'amianto a 360 gradi sull'intero territorio mazzarese.